Sì, mi aspettavo una prestazione positiva, la squadra l'ha fatta, è normale che dobbiamo crescere molto e continuare a lavorare su questa strada. La nota più positiva è quella meno positiva? Ripeto, la nota positiva è lo spirito in cui la squadra ha affrontato la gara, per quello che ha dato, per quello che ha cercato di proporre. La cosa meno positiva è che dobbiamo lavorare ancora sulla qualità, sono sicuro che i miei ragazzi possano fare ancora meglio, questo sì. Timigi, quanto potrebbe essere importante per questa squadra? Oggi abbiamo vinto col Barletta, 2-0, l'ha fatto con Goisis e Dumbia, va bene così. Bella vista invece? Fa entrato, si è messo a disposizione, il professionista serio, un ragazzo che era in grande voglia e sicuramente ci trava la mano. Grazie. Grazie. Grazie.